Grazie per avermi invitato, grazie a tutti voi per la straordinaria presenza che abbiamo qui oggi, io credo che questo sia un giorno per noi importantissimo, importantissimo perché segniamo una nuova alleanza, un nuovo patto, un patto che ci deve consentire di superare, di vincere definitivamente lo sfruttamento, noi sappiamo bene quello che avviene ogni giorno nelle campagne, sotto le serre, la violenza, lo sfruttamento, i pochi soldi orari che vi vengono riconosciuti, la violenza anche del padrone, è tempo e lo diciamo con forza di dire basta, insieme noi ne siamo convinti possiamo vincere lo sfruttamento, possiamo far crescere le buste paga, possiamo far crescere i salari, possiamo chiedere, anzi meglio, pretendere il rispetto dei diritti che la legge italiana già riconosce, per farlo però dobbiamo essere uniti, che non esiste differenza tra un lavoratore indiano e un italiano o tra una lavoratrice indiana e un'italiana, siamo tutti uguali, siamo tutti lavoratori e lavoratrici pretendiamo il rispetto dei diritti previsti dai nostri contratti di lavoro.